Ciao a tutti, buonasera, grazie a chi si è già connesso, dal basso Demolex, Tierra Erde, Fabrizio, Corrado P, Enrico Cenni, Gekko Lantern, 3-4 volte Enrico Casari. Grazie di essere qui con noi, questa sera sono con un ospite d'eccezione, Omar, lo conoscete, Giuliana Galati, sicuramente la conoscete da Scientificast, è una delle colonne portanti sia di scrittura che di voce di Scientificast, anche lei è fisica delle particelle, lavora all'INFN, anche lei da abbastanza tempo, non immemorabile, ma insomma tempo lungo, ha anche fatto due serie di video per Super Quark, vero? Sì, Super Quark più la serie che va su Rayplay. Grazie dell'invito e ciao a tutti coloro che sono connetti. Giuliana ha rinunciato ad altri inviti serali, aspettate che io faccio sempre pasticci con le cose, altri inviti serali per parlare appunto delle oscure trame della materia oscura. Vabbè, ma cosa c'è di meglio delle oscure trame della materia oscura, dai? Infatti, soprattutto, se vi volete scollegare, ciao Alessandro, se volete scollegare subito non ci si capisce niente, arrivederci e possiamo chiuderla anche qua. Ecco Marco D'Addia, adesso possiamo veramente sconnetterci, e da come, cioè, questi sono due fattori della materia oscura, non so, vogliamo partire dalle tue di slide, Giuliana? Sì, partiamo da qualcosa di semplice, proprio di base. Alcune slide tra l'altro sono di Antonia, di Crescenzo. Sì, sì, infatti, io ho rubato l'83% delle slide preparate stasera da una mia collega gentilissima, che si chiama Antonia Di Crescenzo, e che ringrazio per averme le cedute, visto che in realtà il tempo era un po' poco per prepararne di nuove. Tra l'altro sono bellissime le sue slide, quindi non avrei saputo fare di meglio. E, giusto un secondo, prima di partire, questi slide, pubblicità, questi slide in realtà sono stati preparati per un progetto bellissimo a cui entrambe collaboriamo, che si chiama Art and Science Across Italy, ed è un progetto che si rivolge ai licei, in particolare classico scientifico e artistico, in cui noi andiamo nelle scuole a parlare di scienza e chiediamo ai ragazzi di tradurre in arte quello che più le è piaciuto. Parliamo non solo di fisica, anche di tante altre materie, perché collaboriamo con altre università, quindi ci sono biologi, matematici, chimici e così via. E poi i ragazzi espongono le loro opere in una mostra, e chi vince, vince un viaggio al CERN con una borsa di studio per un master su arte e scienza. Quindi, fine momento pubblicitario, siccome adesso stiamo partendo con la terza edizione. E poi è stata a scuola, mi fanno entrare, non vi sparano i ciclini. Eh, vedremo come organizzarla. Abbiamo ancora in sospeso l'edizione precedente, dove non abbiamo potuto finire di fare le mostre dal vivo. Quindi, vabbè, vedremo come andrà. Però il progetto parte, quindi se ci sono dei professori tra voi, tra i vostri conoscenti o alunni, eccetera, potete suggerirglielo e partecipare. Sì, anche perché poi, diciamo, in fase di liceo, eccetera, uno va al CERN e era un posto figo. Poi magari li passa, però lì per lì... No, in realtà, vabbè, non voglio divagare troppo, però è un progetto molto bello, perché partecipano con interesse anche i ragazzi, che di solito non sono quelli più portati per le materie scientifiche. Perché quando l'idea è non solo di chiedere ai ragazzi di trasformare quello che noi diciamo in un prodotto artistico, ma anche di spiegare con il linguaggio dell'arte la scienza. Quindi, nelle conferenze che facciamo, usiamo un sacco di opere d'arte per fare delle analogie, dei parallelismi. E ovviamente, quando uno parla di arte, si sente più sicuro nel dire mi piace, non mi piace, che cos'è. Adesso dico la cosa spocchiosa, ma insomma, perché ovviamente di arte, pure se dici faccate, poi non ti possono smentire, mentre in fisica, se è quello, è quello, non è quello, non è quello. Dici, ma... Esatto. È esattamente... Non è vero, è però. No, però un po' è così. Quindi, diciamo, anche lo studente che prende quattro in matematica, se tu gli chiedi di capire il linguaggio del tempo in un'opera con gli orologi sciolti, qualcosa te la dice, no? E infatti, altre edizioni, hanno vinto anche ragazze del liceo artistico. Quindi, diciamo, loro dicevano, io non avremmo mai pensato di poter vincere. Sono arrivate prime. Quello è sempre importante, anzi, perché... Sì, sì. Anche alla maturità, adesso c'è tutta questa cosa che devi fare tutto un discorso legato, eccetera, che lì per lì magari uno lascia perplesso, però effettivamente non tenere in settori differenti da discipline è sempre una cosa sensata. Spesso si esagera, no? Spesso molte cose tendono un po' a forzare i parallelismi, però tanto noi stiamo sempre tra scienza e fantascienza. Omar, voglio vedere la tua maglietta. Siete due nerd comunque. Abbiamo promesso, abbiamo promesso. Eccoci qua. Adesso chiediamo a Giuliana cosa stanno su cosa e raffigurano sulle nostre magliette. I gormiti, per quanto mi riguarda. Dovrei sapere che Giuliana non si capisce bene perché è fiera del fatto di non sapere nulla di fantascienza, eccetera, eccetera. No, non so, è un dato di fatto. Non mi attira tantissimo e quindi, diciamo, di fantascienza ci sono solo due cose che ho retto e mi sono piaciute. I libri di Asimov e Guida Galattica per autostoppisti che adoro, che ho un'elente, eccetera. Per il resto, zero assoluto. Tante cose ho provato a iniziare a vederla, mi sono addormentata rovinosamente, e quindi... No, 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 ma infatti una tema dipende. Potremmo prenderla come paziente zero per un'ipotetica rubrica dove le faremo sorbire il meglio o il peggio della fantascienza. No, facciamo come con Arancia Meccanica. Arancia Meccanica l'hai visto? Che la forziamo a far vedere, che ne so, tutte le peggiori puntate di Step Track e così via. Comunque, dici di cosa è fatto l'universo, Giuliana. Allora, di cosa è fatto l'universo? Beh, qui abbiamo tante immagini di cose che più o meno conosciamo tutti, dal DNA, le piante, le persone, i pianeti, le galassie, gli atomi. In realtà, tutto quello che abbiamo visto prima è fatto tutto esclusivamente da atomi. E gli atomi sono a loro volta fatti da protoni, neutroni ed elettroni. Poi i protoni e i neutroni a loro volta sono fatti da quark, dopodiché, per quanto ne sappiamo, non possiamo più dividere queste particelle ulteriormente. E quindi, diciamo, abbiamo tre ingredienti principali e tutto questo è la materia visibile. Fin qua lo sappiamo. Il problema arriva dopo, perché in realtà questa materia visibile è solo il 5% del totale. Poi abbiamo un 25% circa di materia oscura e ben 70% di energia oscura. Ed entrambe queste componenti sono completamente invisibili. C'era qualcuno nei commenti che prima di iniziare diceva perché si chiama materia oscura se non la vediamo non è tanto oscura, più che altro è invisibile. Verissimo. Jack O'Lanter diceva visto che non si trova non sarebbe meglio chiamare materia in colore trasparente priva di rifazione eppure in odore. Altrimenti il nasoscopio di Futurama l'avrebbe annusata. E questo è verissimo. Infatti andrebbe chiamata materia trasparente. Non è oscura perché assorbe la luce ma è oscura perché non si vede. Quindi in realtà è un termine inesale. A volte è oscura perché non la conosciamo. Cioè è oscura nel senso di ignota. Eh sì, sì, sì. Quando tu dici, che ne so, questo testo è un po' oscuro, criptico. perché non c'è capito una mazza. C'è la luce, sì, esatto. E noi infatti non ci abbiamo capito una mazza. Allora, ciao Giu Giu Giarlo, non ti sei perso niente perché non ci abbiamo capito una mazza ed è un secolo che non ci capiamo una mazza. Abbiamo forse festeggiato più di un secolo che non ci si capisce assolutamente niente perché il primo a ipotizzare, scusa se passo sul mio, a ipotizzare l'esistenza della materia oscura è questo astronomo svizzero, Fritz Zwicky, questo ha fatto un sacco di cose è una quantità incredibile di cose e tra cui appunto ipotizzare studiando gli ammassi di galassi e lui vedeva che questi oggetti non potevano stare insieme perché la loro velocità sarebbe stata e questi se ne sarebbero andati. Quindi ipotizzò già nel 33, quindi siamo quasi a un secolo, siamo a buon punto, ipotizzò che ci doveva essere della materia che non era visibile. Ora Zwicky, questa è la cosa che forse magari manca a chi sta fuori dall'ambiente, era uno stronzo, cioè un genio, però detta proprio, almeno chi lo conosceva, io non ho mai interagito, perché in 74, avevo 4 anni, stavo forse all'asilo. Però appunto è un caratteraccio, quindi era noto per essere quello che ci azzeccava, sì, però insomma tutto sommato, ma chi se ne frega, quello è pazzo e vecchio. E quindi poi questa cosa, fu ipotizzata nel 33, ma poi rimase, rimase assolutamente non, non investigata, perché anche lì non è che qualunque cosa che uno dice poi viene eseguita, anche adesso nella fisica sono tante teorie che non vanno di moda o sono secondarie e così via. Passarono quasi 30 anni, finché una donna, Louise Wolders, osservando un'altra galassia M33, si accorse che non ruotava come dovrebbe. E qui tu intanto cerca la tua slide, Giuliana, che così metto la tua, che è più figa della slide mia, e tra l'altro, intanto che la cerca, io non ho trovato nessuna foto di Louise Wolders, l'ho cercata, non per tre ore, però effettivamente non si riesce a trovare, mentre Vera Rubini e le altre sono più note, non so perché, non so perché. perché è una donna e quindi ovviamente è stata tenuta nascosta da questa scienza maschilista. Ma questo è vero però, cioè è assolutamente vero, cioè non, però pure Dedi si è fatta pregare per appalesarti qui su questi canali, magari anche più modesta, perché Giuliana è bravissima, però appunto, essendo timida, poi dico, no che cavolo, vieni te, meglio di dire, stai io e Omar. è che il vero saggio sa di non sapere, quindi... Eh sì, però quello è l'effetto... Ma io non mi sento mai all'altezza, quindi cercavo di declinare l'invito, poi alla fine ho dovuto cedere. Mi ho rotto talmente tanto le scatole. Allora, quindi come ruota la galassia? La galassia, qua abbiamo un'immagine di un dervish che ruota insieme alla galassia, di cui non abbiamo trovato chi sia l'autore, però mi piaceva molto, a me, in realtà, la mia collega che l'ha trovata. E qui invece entriamo più nel vivo. Abbiamo la velocità di rotazione delle galassie che uno si aspetterebbe seguisse la legge di Keplero e quindi, diciamo, si muovesse come quella che vedete adesso. Cioè, come il sistema solare, scusa, è come i pianeti del sistema solare, nel senso che se tu c'è un sole che in questo caso sarebbe il mugo nero supermassivo tutte le stelle al nucleo della galassia, le stelle intorno ruotano come i pianeti secondo appunto la legge di Keplero. In realtà... In effetti avevamo anche detto di cercare di descrivere le immagini per chi ci ascolterà senza vedere il video, quindi comunque l'idea della legge di Keplero è che la velocità diminuisce all'aumentare della distanza. Quello che si vede invece dalle osservazioni è che la velocità rimane costante. E questo ovviamente non si spiega, perché il rapporto di queste velocità come si calcolano? Dall'uguaglianza tra la forza centrifuga e la forza gravitazionale, quindi due forze che devono arrivare ad avere, a confrontarsi una con l'altra, avere lo stesso valore, quindi da qui semplificando un po' di termini senza spaventarci per la formula matematica, ti ottiene comunque che la velocità dipende sia dalla massa che dalla distanza rispetto al punto che stiamo valutando e dovrebbe da quello che ci attendiamo percorrere, avere l'andamento della linea rossa con l'attesa. Quello che si misoglie è che ti stai allontanando dal centro della galassia, la massa va diminuendo e quindi ti comporti come un pianeta. Questa è la velocità dei satelliti in orbita attorno alla Terra, la velocità della Luna attorno alla Terra, più stai lontano più la tua velocità scende in virtù dell'inverso della distanza della radice quadrata e quindi anche per la galassia uno si aspetterebbe questa cosa qua. Nuovamente avevo dimenticato di non dare per scontato che uno guardi la slide, scusatemi. Comunque insomma, tra l'attesa e la misura c'è di mezzo un sacco di spazio. Luis Volders, la grandissima appunto l'astrofisica è una delle ragioni per cui i conti non tornano e quello che dico io sempre che quando i conti non tornano i fisici per farli tornare ci aggiungono in mezzo qualcosa che diciamo loro dicono non si può vedere non si può rivelare non si può toccare non si può fare in nessun modo però lo aggiungiamo e i conti tornano e quindi diciamo questa è stata prima cosa i conti non tornano però se ci aggiungiamo della massa allora potrebbero tornare facciamo sì che la massa è più di quella che vediamo e allora il comportamento della rotazione sarebbe proprio quello atteso quindi questo è una prima diciamo un primo segnale del fatto che c'è qualcosa che noi non vediamo esatto tra l'altro questa fu vista per M33 come prima galassia ma in realtà si vede per tutta una serie di galassie anzi si riesce a stimare la massa mancante ognuna di queste curve vengono chiamate curve di rotazione appunto questa è la distanza dal nucleo della galassia in migliaia di parse quindi se moltiplicate per tre vuoto per pieno questi sono 15.000 anni luce e la stella più vicina sta a 4 anni luce quindi noi stiamo più o meno qua e quello che vediamo è intorno qui però delle altre galassie si riescano a vedere queste curve di rotazione vedete che sono tutte più o meno piatte e questa cosa ha mandato ai pazzi tutti dagli anni 60 perché non può essere quindi Giuliano dice bravo tra pazzi prima secondo te beh però questa è grossa no no sto scherzando non so se vogliamo già far vedere anche gli altri allora prima prima di far vedere le altre io volevo farlo mettere questo commento di Angelo eccolo qua ma l'energia oscura in questa somma non entra no per dirla alla Verdone quando faceva lo sketch uno dei primi sketch sono due cose a urse l'energia oscura è una cosa ancora peggio che ci si capisce ancora di miranti forse tu ce l'hai la slide sull'energia oscura Giuliana mi pare cioè sulla spiegazione o su nessuno ne capisce niente è un altro termine aggiunto là l'energia oscura è ancora più misteriosa e ci faremo un'altra puntata vi faccio vedere in una slide cosa sappiamo dell'energia oscura se la state vedendo siete pronti grande rivelazione grande rivelazione sappiamo solo che ha un nome figo e non sappiamo niente è un altro sabotaggio trovato dai fisici per giustificare altre cose che non tornano nell'universo ovvero perché se ne è uscita ovvero il fatto che l'universo si sta accelerando e che sta espandendo e questa espansione accelera sempre più contrariamente a quello che uno si aspetta cioè noi ci aspettiamo che dal big bang in poi l'universo si si espanda ma questa espansione diminuisca perché è una sorta di energia iniziale che man mano dovrebbe esaurirsi invece vediamo che questa espansione aumenta e aumenta sempre più velocemente e quindi uno dice perché? perché c'è l'energia oscura e così è risolto un altro problema della fisica esatto infatti uno di questi per cui uno studia queste cose è che sapere quanta è la massa dell'universo sapere come questa è distribuita ti fa capire il futuro dell'universo questo in funzione del tempo noi stiamo qua in un punto più a 15 miliardi da questo big bang che faceva vedere Giuliana e appunto a seconda se c'è tanta massa o poca massa l'universo ricadrà su se stesso come si pensava in passato si espanderà all'infinito sempre più lentamente come sembrerebbe adesso anche se questa cosa fa schifo praticamente a tutti oppure si espanderà sempre di più quindi il destino ultimo dell'universo dipende da questa cosa qua di cui appunto conosciamo solo il 5% Marco Taddia dice aspetta che vi metto così altrimenti copriamo Giuliana no quest'altro ma questa materia oscura non può essere qualcosa delle meccaniche formule che ancora non sappiamo non vera proprio materia o energia sì cioè infatti sono delle formule aggiunte per tener conto è quella che è la costante di Einstein il più grande errore della sua vita che poi in realtà fu riaggiunto però non sappiamo che cos'è che si aggiunge a queste cose qua e quindi non appunto adesso vedremo come la stiamo cercando posso aggiungere una cosa forse si è interpretato il commento è che è vero un'ipotesi potrebbe essere che abbiamo sbagliato le formule in qualche modo però le prove per l'esistenza della materia oscura sono tante e sono anche di ambito di tipo diverso ora vediamo anche le altre e quindi è come se ci fossero tanti indizi che portano tutti alla stessa spiegazione che comunque possono essere tutti spiegati con la stessa ipotesi quindi un conto è dire vabbè abbiamo sbagliato la formula della rotazione delle galassie è un conto è dire abbiamo sbagliato con la formula abbiamo visto quest'altra cosa e non sappiamo spiegarla abbiamo visto quest'altra e non sappiamo spiegarla e iniziano a diventare un po' troppi errori infatti è la forza Enrico dice non sarà la forza quella di Guerre Stellari Giuliana effettivamente tiene insieme tutta la galassia perché quello diceva è una cosa che tiene insieme tutta la galassia infatti tanto guardate quando quelli tirano fuori le mondo ci arriveremo tra un attimo però visto che stiamo parlando di Guerre Stellari Giuliana insiste sicuramente di interpellare Omar sul bassissimo casi della fantascienza di come viene trattata la materia oscura nella fantascienza ma direi che praticamente quasi zero perché in effetti abbiamo abbiamo cercato di fare una cernita ma è venuta fuori veramente poco io inizierei subito Marco se mi passi quella slide che il buon Fabrizio Leporini ci odierà per tutta la vita questa o quell'altra quell'altra vabbè intanto facciamo questa allora noi abbiamo messo questa beh questo qui Futurama nell'ambito di Futurama è citata mi pare in un po' di puntate ovviamente è citata come solo Futurama riesce a fare per cui Futurama è un cartoninato fatto da quello dei Simpsons Giuliana a metà nella fantascienza è per il Simpsons no i Simpsons lo guardo Futurama lo guardo meno perché ovviamente mi piace di meno e poi c'è anche quello fantasy che secondo me è carino non è disenchanted sì ma quello fantasy non l'hanno tra l'altro non l'hanno sospeso non lo so hanno fatto due stagioni che secondo me sono carini cioè non cerca di farti dire a tutti i costi ma non era non era male di Matt Guerreni di tutti e tre dopodiché adesso che c'è Fabrizio Leporini possiamo andare all'amore suo che ovviamente è questo ecco diciamo qui in quel non so è una boiata è una boiata è una cagata pazzesca la Fantozzi praticamente da 100 milioni di dollari peraltro che tra l'altro ha fatto rivalutare Marco ha fatto rivalutare l'altro proprio sulla coreanzata di Amato ma di Amato era meglio stiamo parlando di Capitano Arlock per chi ci ascolta in podcast e non stiamo parlando del cartone animato degli anni 70 o anche dei vari remake ma del film appunto costato 100 milioni di dollari fatto in computer grafica che aveva se non altro il pregio di avere attori in computer grafica e di non aver messo a recitare appunto i giapponesi che stavano in Yamato nei super in quelli come si chiamano di Okusatsu perché recitano veramente da cani senza appello in confronto appunto la corinna di Boris era veramente da Oscar e qua appunto il film che Fabrizio dice che non esiste come non so cita un'altra cosa che non capisco cosa sia i J4 non so cosa si riferisca il J potrebbe essere Indiana Jones ma non c'è un quarto film di Indiana Jones e in quanti c'è Capitan Harlock Capitan Harlock che praticamente ovviamente hanno dovuto condensare una saga abbastanza grossa e cospicua in un film unico dove praticamente compare questi diciamo l'impatto è addirittura la cos'è il motore a materia oscura dark matter e addirittura si scopre che non so se a questo punto si possono fare spoiler ma tanto noi non abbiamo questa policy di no tu non ce l'hai io cerco di mantenerla però questo è talmente brutto di film si scopre che addirittura la alla fine cioè diciamo che se volete vederlo vedete il vostro rischio pericolo sostanzialmente si scopre che la terra è andata completamente a quel paese a causa della materia materia oscura sostanzialmente allora diciamo che c'era questa arcadia che andava a diesel perché siccome c'era materia oscura cioè la scena guarda la Giuliana è una cosa atroce penso che c'era questa ciminiera che inquinava più del terreno di Harry Potter che è una cosa ma poi era proprio 0-0 Tiera dice però Tiera dai Arlok non va visto solo per la fantascienza ma per la critica sociale giustissimo ma non questo Arlok non questo Arlok esatto questo qui penso che praticamente potrebbe stare diciamo questo Arlok sta all'Arlok anime con tutti i derivati come lo Star Trek di Gigi Abrams sta allo Star Trek normale due peraltro cioè come un Gigi Abrams Gigi Abrams è quello che ha rifatto Star Trek lo spieghiamo non per Giuliana che lo sa benissimo ma per i nostri amici che sono a casa però io non ho capito cos'è IJ4 ma quello è il buon Deporini che scrive tutto in codice va decryptato allora guarda ti metto un suggerimento di Marco D'Addia no di Indiana hanno fatto tre film e poi produrranno il cinque il quarto porta sfortuna perché in cinese e in giapponese vuol dire morte porta sfortuna come tutti sanno quindi Indiana Jones sai che cos'è Giuliana? sì ci arriva e dopo quello fatto con quei due grandissimi efficaci di Harrison Ford e Sean Connery che penso fosse l'apoteosi hanno fatto un quarto film di fantascienza o qualcosa di qualche che era qualcosa di agghiacciante io anche i miei figli quando gli ho fatto vedere i primi tre mi hanno chiesto ma ce n'è un altro no quando sei grande per i porno e per Indiana Jones 4 te lo scoprirai per conto tuo nei reconditi nella tua cameretta ma non c'è molto altro il quarto era il musical lei può essere oppure il fatto di Atlantide doveva essere il fatto di Atlantide che era che era che era videogioco praticamente e poi non c'è anche quella quella serie televisiva cos'era il giovane Indiana Jones sì ma quella era carina infatti poi Lucas l'ha disconosciuta cioè dice che non fa parte del canon quella era anni 90 secondo me non era malaccio aveva anche quel light motive che si incontra in cui appunto Indiana Jones si incontrava tutti i vari personaggi Kafka nella prima guerra mondiale i vari generali quindi insomma non era male diciamo diciamo che Capitan Harlock il film se la gioca con la scena del frigorifero di Indiana Jones 4 beh il frigorifero a me non è dispiaciuto secondo me è dopo che è assurdo però sopra le righe ma borderline è dopo secondo me che non non ha alcun senso cioè insomma russi che scorrazzano in piedra era maccartista negli Stati Uniti cose insomma assolutamente improbabili infatti poi era in metà nel 57 uno dei commenti della Russia all'epoca fosse ma noi nel 57 non stavamo facendo queste boiate eravamo occupati a lanciare lo Sputnik che appunto fu stato lanciato nel 57 che tutto sommato è un commento assolutamente condivisibile Arlock non è fantascienza Enrico Casari è geopolitica sì infatti la prima serie rimane comunque non stiamo qui a diciamo il film praticamente non c'entra assolutamente niente con diciamo l'anime originale e dopo tutti i vari diciamo mini serie derivate sinceramente questo è devo dire la verità penso che abbiano avuto anche una serie difficoltà nel mettere nel condensare una ma pagagli i sceneggiatori è costato 100 milioni di dollari cioè me ne dai un milione a me che poi lo do metà Alicia per esempio e poi voglio dire 100 milioni io non so neanche come si scrive 100 milioni di dollari è come gli altri film voglio dire non è che George Abrams e Coppa li faccio tanto meglio però dopodiché anzi mi dai un milione di dollari a me io ti copio il fumetto originale o copio l'anime originale non è che ci vuole tanto come poi hanno fatto quelli di Yamato che praticamente hanno preso ma infatti di Yamato non era bruttissimo è che quelli recitavano da cani senza appello perché appunto sono certi imbarazzanti veramente come se ero dato un altro milione recitavi anche tu o meglio di loro noi facciamo anche dei corti poi sono ben nascosti su youtube ma abbiamo anche vari corti fatti prima che esistesse youtube addirittura anzi no su youtube se non cercate con Valeria e con Licia cercate i complotti semplici non ci stanno e con Luca Rifino che è stato tra l'altro si si che recita anche lui è complottista ragazzi e tra l'altro le battute migliori sono le sue off the script tra l'altro infatti comunque torniamo a terra e anzi torniamo nello spazio torniamo alle cose che non sappiamo dopo che Luca di Fino Complottista ma chiudo cercalo ma non l'hai visto scelchimi il mio youtube i complotti semplici non ci stanno che è il titolo suo tra l'altro è girata torvergata Simone dice non stiamo divagando un po' c'ha ragione allora ritorniamo ai motivi per cui esiste materia oscura Giuliana illuminaci allora illuminaci è la parola giusta perché qua dipende invece tutto dalla luce ovvero c'è un effetto ottico che vediamo quando osserviamo le galassie lontane nello spazio e che dipende da come i raggi di luce vengono deviati dalla presenza della materia noi siamo immaginati siamo abituati a immaginare di vivere in uno spazio abbastanza piatto diciamo invece forse avrete visto in qualche raffigurazione che è un misto tra spazio tempo e che dipende dalle masse quindi si fa sempre vedere questo lenzuolo dove quando uno ci mette una palla sopra si deforma e quello è lo spazio tempo che si deforma a seconda delle masse quindi quando la luce arriva a noi viene deformata dalla massa che è presente nello spazio e succede questa cosa qui che potete vedere si creano dei cerchi ora è un effetto che possiamo vedere nella nostra vita di tutti i giorni se prendiamo la base di uno di quei bicchieri da cocktail che hanno una base un po' conica se lo mettiamo su un puntino colorato per esempio su un foglio vedremo questo puntino colorato come degli anelli intorno al punto originario e a seconda di come spostiamo questo fondo di bicchiere questa base del bicchiere questi anelli completi possono diventare solamente delle linee curve quindi delle parti di un anello questi anelli si chiamano anello di Einstein e sono proprio la prova che tra noi e quello che stiamo osservando c'è della materia che sta deformando il campo gravitazionale di cui noi non ci rendiamo conto questa è un'immagine bellissima perché si vede esattamente quello che abbiamo visto poco fa in quel breve video con il bicchiere cioè noi vediamo non la galassia ma un cerchio che in realtà ci fa capire che da qualche parte lì in mezzo ci sarebbe stata una galassia che non riusciamo a percepire qui la galassia c'è e in altri casi la galassia non c'è qui la galassia si vede qui vediamo un punto al centro e in altri casi vediamo solamente tante galassie diciamo che formano l'immagine della laterale e questa è un'altra immagine molto carina secondo me che è diventata tra l'altro famosa perché ha questo smile si vedono la bocca il naso eccetera quindi è proprio un emoticon perfetta ed è dell'ammassio di galassia sdd ss j bla bla tante altre righe quindi questo è un altro effetto completamente indipendente da quello che abbiamo detto prima cioè non dipende dalla velocità di rotazione ma ha a che fare invece con la deformazione dello spazio secondo della presenza o meno di massa cioè il puntatone con Andrea Bersani che abbiamo fatto sulla relatività generale e quindi se volete riprendetelo lì appunto sulla distorsione dello spazio-tempo e appunto questa delle lenti gravitazionali anche questa fu ipotizzata da Zwicky che disse guardate che questa cosa dovrebbe creare appunto questo effetto e infatti nessuno gli diede retto comunque più o meno finché poi non videro la prima prova degli alieni cioè i quasar gemelli cioè videro due sorgenti identiche stessa massa stessa luce stessa distanza nel 79 ovviamente sono alieni che stanno trasmettendo a noi o a chi gli pare a loro però la cover story la cosa che si sono inventati è che appunto ci sia della massa che si interpone tra i due che appunto deflette la luce e sdoppia come appunto una lente come quella che faceva vedere Giuliana se la massa se la massa è molto ben concentrata si vedono proprio le immagini ne dovrei avere anche una con quattro quasar gemelli da qualche parte eccola qua la croce di Einstein eccola qua quattro quasar gemelli quindi c'è la luce principale che è questa e quella che viene distorta e appunto come dice Giuliana in certi casi c'è la galassia davanti anzi le prime ammassi delle lenti gravitazionali sono state viste con la galassia davanti che si vede però in molti casi non si vede e quindi c'è quest'altro caso spettacolare che è il bullet cluster mettila tutto schermo però pensavo parlessi ancora e quindi si vede lo scontro tra due cluster di galassie quindi abbiamo due oggetti che sono appunto dell'insieme di galassie un ammasso di galassie da una parte un altro ammasso di l'altro si scontrano e non succede assolutamente niente perché si passa no questo dipende nel senso che abbiamo da una parte la materia ordinaria che è quella che vediamo con un telescopio a raggi X ed è in magenta e dall'altra abbiamo invece la deduzione della materia oscura sempre utilizzando il metodo di prima cioè delle lenti gravitazionali e si vede che mentre la materia ordinaria si è scontrata ed è rimasta ovviamente più vicina perché lo scontro ha provocato comunque un cambiamento nel modo in cui queste galassie si stavano muovendo la materia oscura si è scontrata e si è penetrata a vicenda quindi è andata avanti e è andata diciamo ha continuato il suo moto come se nulla fosse successo ed è quella che vedete appunto in viola e azzurro ovviamente sono farsi colori ecco questa appunto la foto è invisibile hai ragione a sottolinearlo però insomma quello che si vede è che la materia ordinaria e la materia oscura si comportano in modo diverso quindi la materia oscura non solo non se ne frega niente di noi non se ne frega niente di incontrare nemmeno dell'altra materia oscura esatto cioè perché c'è da dire che quando c'è uno scontro di galassie anche la nostra galassia si è scontrate con altre galassie più piccole se le è pappate però in generale forse saranno due stelle che si scontrano realmente tipo i buchi neri e il buco nero perché in realtà lo scontro vuol dire semplicemente che avete questo questo fluido che è la galassia che interagisce col fluido delle altre stelle e si ammappazzano in qualche maniera ma le stelle fisicamente non si scontrano realmente sì perché il mazzo è vuoto cioè ricordiamo esatto più fatto di gas nubi polvere di questo genere di cose qua che si scontrano poi realmente anche i buchi neri che è lì città angeli infatti molti buchi neri supermassivi si ritiene siano anche figli di collisione di nuclei di altre galassie con il loro buco nero al centro però quello che è importante che dice Giuliana è che appunto si riesce ad inferire a sapere dov'è la materia che non è quella visibile dalla distorsione dell'immagine visibile di Hubble che ovviamente qua è appena visibile ma insomma vedete che ci sono queste tracce più filamentose e da lì si capisce che la materia oscura proprio a Roma si debba gli rimbalza ma in realtà non rimbalza nemmeno perché passa dritto per dritto tra l'altro Giuliana ha studiato una cosa che gli rimbalza poco di più cioè che sono i neutrini e anche quelli poi un'altra full immersion nei neutrini i neutrini sono le particelle più piccole che me ne freghiste esatto me ne freghiste quindi loro attraversano tutte indisturbate passano attraverso di noi passano attraverso la terra passano attraverso la nostra galassia infatti una delle cose che mi piace sempre dire è che a noi arrivano ancora i neutrini che sono stati originati dal Big Bang perché nonostante abbiano attraversato di tutto sono passati indisturbati senza fregarsene di nulla però quelli li riveliamo nei rivelazatori perché interagiscono un po' più della materia oscura la materia oscura interagisce solo gravitazionalmente no aspetta interagisce solo gravitazionalmente allora ci spariamo e è finita no? bello e chiuso con Leonardo come dicevano Troise e Benigni quello che si spera che si prega la sera ate e credenti tutti insieme che interagisca almeno debole se no veramente bello e chiuso con la materia oscura io dico quello che abbiamo già osservato interagisce sicuramente gravitazionalmente e per il resto diciamo non lo sappiamo se ha altri metodi di interazione sicuramente non interagisce in modo elettromagnetico e sicuramente non interagisce con la forza forte che è quella che tiene insieme i nuclei negli atomi per esempio invece i neutrini sappiamo che interagiscono anche debolmente che è il quarto tipo di forza che come dice il nome non è molto forte però fa sì che ogni tanto qualche neutrino riesca comunque ad andare a sbattere sugli atomi e a creare qualcos'altro che noi possiamo vedere neutrini di loro non li possiamo vedere perché sono neutri e possiamo metterci l'anima in pace che non esiste un rivelatore di particelle che ci faccia vedere direttamente un oggetto neutro una particella neutra vediamo elettricamente intende dire che c'è una carica elettrica sì sì è elettricamente neutra perché si basano tutti sull'interazione della carica con il rivelatore della carica elettromagnetica quindi i neutrini di per sé non li vediamo li vediamo solo se interagiscono con qualcosa se interagiscono si trasformano in qualcosa che noi possiamo vedere cioè producono qualcosa che possiamo vedere e lì possiamo dedurre che cosa è arrivato il neutrino che tipo di neutrino eccetera un po' noi speriamo che anche la materia oscura possa fare qualcosa del genere cioè molto molto raramente più raramente dei neutrini sicuramente già quelli era molto raro possano interagire con la nostra materia ordinaria e spostare leggermente gli atomi per esempio creare dei piccoli effetti di rinculo degli atomi che con metodi sofisticatissimi riusciamo a rivelare esatto quindi ci torniamo però c'è una domanda da Marco Taddia che dice questa è per te Giuliano sentito parlare di neutrini superluminali che cosa sono? sono un errore della scienza che ci dimostra che la scienza può funzionare molto bene correggendosi da sola disposta molto politica di corretta sì vabbè infatti è giusto è così allora c'è stata una storia che in realtà ho vissuto quasi in prima persona perché l'esperimento opera che è stato quello in cui ho lavorato per tanti anni a partire dalla tesi triennale aveva a un certo punto misurato una velocità dei neutrini più alta quindi più veloce di quella della luce in realtà i neutrini viaggiano alla velocità della luce meno un'inezia perché viaggerebbero alla velocità della luce se non avessero massa in realtà hanno una massa piccolissima così piccola che non siamo mai riusciti a misurarla che però riduce di proprio pochissimo la velocità della luce l'esperimento invece ha trovato una velocità superiore sul famoso tunnel sotterraneo della Gelmini chiudiamo il cerchio che però ci ha reso famosi e quindi diciamo c'è stato questo risultato che poi con una fuga di notizie è finito direttamente da un great old one cioè in confronto Cthulhu è un giovincello appunto un great old one ha fatto uscire questa perché appunto perché è importante scherzi a parte perché fa capire anche il processo della scoperta scientifica e anche della toppa che secondo me ci sta proprio perché è la falsificabilità della scienza cioè voi avevate questa misura era una misura potenzialmente iper rivoluzionaria dopo di che però appunto uno diceva beh però momento e quindi stavate lì dopo di che uno dei great old ones ha divulgato la notizia alla stampa voi considerate che io in quel periodo facevo la tesi triennale e lavoravo quindi nel laboratorio in un laboratorio di opera giorno e notte quasi e non ne sapevo niente perché in realtà tutte le persone che lavoravano nella collaborazione erano tenute all'embargo cioè a non divulgare questa notizia però ovviamente è difficile quando ci sono 150 persone coinvolte che nessuno ne dica in questo caso la notizia è uscita e quindi diciamo i giornali poi come loro solito hanno iniziato a titolare Einstein ha sbagliato in realtà non è neanche così perché diciamo a me piace scusate a me piace raccontare questo episodio perché secondo me è un'esperienza di buona scienza cioè ci dice uh che palla ci dice che non c'entra chi ha detto cosa è una teoria quindi Einstein deve avere ragione per forza e quindi se una cosa è contro Einstein allora è sbagliata per forza no non è così di default noi abbiamo una teoria che è ben consolidata se ci fosse però una misura verificata che non rispecchia questa teoria la teoria verrebbe estesa cioè come se noi prendiamo la legge del moto fatta da Galileo che riguarda un certo tipo di moto a certe velocità e diciamo che Galileo ha sbagliato non era sbagliato perché quelle formule vanno benissimo quando dobbiamo calcolare come cade una pallina o come ci muoviamo noi sulla terra se andiamo a velocità come quelle della luce allora dobbiamo tirare in ballo la relatività di Einstein qui poteva esserci l'apertura di un nuovo scenario è un fantastico premio Nobel in realtà però come vi dicevo se uno va a minare una teoria consolidata bisogna avere delle prove forti quindi innanzitutto l'esperimento deve confermare la misura e non era ancora stato fatto e in più ci devono essere altri esperimenti che confermano la stessa misura l'esperimento stesso in breve tempo ha trovato che in realtà c'era un errore il cavetto collegato male molto triste da dire in realtà diciamo non ci si aspettava un errore del genere da quel cavo collegato in quel modo comunque tutto può succedere e quindi in breve tempo la notizia si è sgonfiata è stata data la diciamo la soluzione del mistero tra l'altro non era stata neanche pubblicata era solo un preprint e quello che dice Giuliana è importantissimo perché appunto Opera è una collaborazione relativamente piccola per quella che è la fisica dell'alta energia nel senso che al senso a 3.000 persone lì sono 150 persone e con 150 persone già il gomblotto degli scienziati che non ce lo vogliono dire già è uscito subito quello sì quasi super luminale dalla cosa dalla cerchia oscura quindi voglio dire Angelo Fascella chiede ma i tachioni vanno più veloci della luce e sì è peccato che loro non esistono per cui no le abbiamo ipotizzate ma non è che le abbiamo ipotizzate abbiamo detto se una particella va più veloce della luce la chiamiamo tachione perché tu hai fatto il classico no? come è tachios e velocità no? da tachimetro dovrebbe essere quello sì quindi voglio dire se una particella è gialla io lo chiamiamo giallone però voglio dire non è che non è non è non esiste i teorici possono fare un paper su qualunque cosa guarda uno ne fanno 50 su qualunque cosa nel preprint di opera ci sono stati un sacco di paper nel giro di una settimana che davano delle teorie fantastiche in cui tutto veniva inquadrato perfettamente e tra l'altro quelli gli contano cioè perché poi tra l'altro la cosa divertente è che in tutto questo rutilante mondo della scienza a parte le mafie gli impicci e gli imbrogli una delle cose che conta è quante articoli hai non quante vaccate hai detto cioè quello che conta è l'h index che è quante citazioni hai quante articoli hai e quante citazioni hai dopo di che il teorico dice se quello è vero discende questo questo e quest'altro che non è tanto diverso da capitan Arlok con la cosa Dark Matter che esce dice se quella Dark Matter la metto nella caldaia dell'Arcadia esce cosa nera e ci fai un paper e dici ah che hai fatto c'è un altro paper quindi da un lato voi presi in giro il turno della gemina eccetera e quel teorico perché anche su LHC ogni fine anno uscì un picco più o meno la fluttuazione statistica prima che chiudessero baracca e burattini perché la corrente costa troppo d'inverno al CERN quindi chiudono i teorici ci fanno paper su paper riaccendono la baracca e quello sparisce perché la fluttuazione statistica sparisce e sì teorie fantastiche dove trovarle ma guarda non ci siamo neanche lontanamente avvicinati alla supersimmetria perché tra l'altro tra l'altro poi ritorniamo alle questioni di Giuliana però oltre a tutta una serie di motivi anche delle simulazioni eccetera eccetera c'è da dire che c'è un profondissimo no aspetta scusate c'è una profondissima motivazione teorica sono i disegnetti che piacciono tanto a Berusca cioè i diagrammi di Feynman tutta una serie di conti che se uno non presuppone che noi conosciamo dell'universo che diceva Giuliana all'inizio visibile anche invisibile neutrini che interagisce poco solo metà cioè ci deve essere almeno il doppio delle particelle di cui questa materia oscura dovrebbe essere la particella più leggera questo candidato di materia oscura che si può annichilare e quindi essere visibile per tutta la serie di motivi ma soprattutto serve ai teorici non gliene frega niente della sperimentale gli serve per mettere a posto le teorie che altrimenti gli vengono infiniti da tutte le parti no? perché poi questo è il problema almeno dal punto di vista teorico senza di quello tutte le teorie fantastiche dove trovarle che dicono tutti che dice Peruska cascano un po' quindi quello quello era l'altro motivo per cui poi dopodiché quali sono le altre le altre le altre le altre evidenze sperimentali perché quella teorica è molto sì io mi ero soffermata su queste tre se vuoi invece andare su simulazioni e radiazione cosmica di fondo altre cose forse slide allora anche perché allora l'altra l'altra motivazione appunto è quella che dice Giuliana che è quella delle simulazioni al calcolatore cioè negli anni 70-80 non si sapeva i neutrini erano dei candidati di materia oscura cioè perché dice il neutrino esiste se c'è una piccola massa al tempo non si sapeva neanche se c'è massa adesso si sa quant'è la massa o meglio si sa quanto sono le differenze di massa quant'è la massa non si sa anche lì altri deliri che poi faremo un altro giorno non si sa neanche chi è quello più leggero quello più pesante chi sta sopra chi sta sotto che può dare problemi fisici di vari sensi e Verusca dice poi dite che i cazzoni siamo delle scienze unane vergogna su di voi e sì infatti sì ma guarda Verusca è un problema gravissimo cioè tu hai la maggior parte della massa che non c'è appunto dalle simulazioni al calcolatore appunto viene fuori che è un oggetto freddo cioè il neutrino quando era un candidato di materia oscura dato che si muove quasi alla velocità della luce vuol dire che le interazioni con quando ci sono questi scontri di galassie o quando io faccio tutte le simulazioni al calcolatore si comporta in una certa maniera che non è come vediamo noi gli ammassi di galassie cioè la presenza di materia oscura forma anche questi filamenti ossia in questi questo è un articolo recentissimo di Nature di due settimane fa in cui hanno simulato al calcolatore con una risoluzione mostruosa molto più della risoluzione del che vedete sullo schermo 25 parsec sono 70 anni luce quindi grosso modo qui stiamo parlando di stelle o queste qui sono distanze interstellari i filamenti sono i filamenti di materia oscura che possono avere densità variabili poi via via che vi allargate verso opposto qui stiamo parlando di un chiloparse quindi 3000 anni luce quindi un bel pezzo di galassia qui stiamo parlando di galassie contro galassie e vedete questa struttura filamentare se volete anche a tipo frattale che poi vedremo altre volte si manifesta solo se questa particella è una particella che si muove a centinaia di chilometri al secondo quindi velocità galattiche e se è presente su tutte le scale fino a 150 megaparse quindi quasi una fetta cospicua di tutto l'universo quindi di nuovo se faccio le simulazioni del Big Bang che diceva Giuliano all'inizio vedo come si evolve faccio cose conosco gente nel mio calcolatore simulato quella dice guardate deve essere un oggetto freddo o comunque la maggior parte è fredda quindi si muove 220 km al secondo è una quantità enorme però per la velocità galattica se hai il peschereccio nella galassia cioè non vai da nessuna parte però è la velocità con cui ruotano gli stessi rettori nella galassia deve essere fatta così i teorici dicono che è così e però Omar prendiamo la slide tutte queste bellissime ricerche ci hanno portato a questo ecco che per chi non appunto ci ascolta in podcast è una frame di balle spaziali non quando dicono che passano al deserto al pettine e ci sono anche lì il political incorrect di Mel Brooks non abbiamo trovato nulla non abbiamo trovato niente e i due di colore col pettine di colore appunto anche qui confermano che non abbiamo trovato assolutamente niente in maniera colorita appunto perché appunto le altre ricerche sono quelle underground su acceleratore dello spazio quindi tu c'hai anche delle slide sui rivelatori underground sì abbiamo tre modi per cercare la materia oscura finora tutti abbastanza infruttuosi uno è di cercare nei laboratori sotterrani quindi luoghi che sono abbastanza puliti da tutti i raggi cosmici che arrivano continuamente a noi cerchiamo con dei rivelatori molto sensibili di vedere se queste particelle urtano i nostri atomi e provocano dei piccolissimi rinculi degli atomi quindi questi atomi lasciano una piccola traccia nei rivelatori di particelle e poi se volete vi posso raccontare qualcosa in più su questi esperimenti un altro metodo è quello di andare invece in orbita con i satelliti e di vedere se ci sono scontri tra particelle di materia oscura quindi collisioni di materia oscura un po' come avevamo visto prima che in realtà però per la maggior parte si attraversano una con l'altra le nubi di materia oscura non se ne fregano niente e l'ultimo è quello invece di produrre materia oscura e quindi di usare gli acceleratori di particelle come quello del CERN e l'HC e di vedere se nell'urto di protoni una volta non vedi mai che viene provocata una particella viene creata una particella di materia oscura quindi queste sono le tre strategie fallite tutte miseramente dopo lì che possiamo discutere chi ha fallito più miseramente delle tre su quella in diretta ci abbiamo lavorato noi per tantissimi anni nel senso che abbiamo lanciato Pamela nel 2006 dove hanno lanciato anche lo Sputnik questo era il giorno prima del lancio di Pamela appunto come dice Giuliana tu quello che vai a cercare è l'annichilazione un satellite che studia l'antimateria per vedere i prodotti di annichilazione della materia oscura perché questa non interagisce per niente però se per caso si incontra rarissimamente con un'altra particella di materia oscura produce energia esattamente come una collisione materia-antimateria dei motori dell'enterprise e produce a sua volta antimateria e noi l'abbiamo trovata nei positroni ma poi non è stata poi questa scoperta spiegata tanto in termini di materia oscura perché non si trova dagli altri altri quanto piuttosto come una una contributo locale forse dovuto a Pulsar poi il nostro risultato che è stato pubblicato su Nature è stato anche confermato da MS di cui Valerio Formato tra l'altro lavora anche per MS e quindi anche lì l'importante è la verifica però non è detto che poi questo poi sia dovuto alla materia oscura Angelo cita anche l'acceleratore di flash ecco questa era l'altra citazione nella serie di flash tu non so se Omar se l'hai seguita perché appunto anche lì l'acceleratore era prodotto di materia oscura magari e creare flash metahumani quelli ma i domani stanno già al CERN ora se siano veloci o no si tipo di scura una buona parte però c'è molto poco altro anche in Star Trek la materia oscura compare spesso però in contesti assolutamente fuori luogo sembra come una classica classico escamotage per giustificare certe situazioni tanto poi Marco ecco io mi ricordavo più l'altro l'altro episodio sempre dell'Università Stratè quella di ecco questo qui che tra l'altro poi diciamo non c'entra niente sostanzialmente o quantomeno l'episodio si verte su tutt'altre tematiche tra l'altro è interessante ricordare che il titolo originale è un capitolo di un manuale della marina militare americana questo sarebbe spiagge e rocce però è visto come praticamente come asperità e ingiustizie praticamente potrebbe essere rocce e shoals eh sì tanto poi ovviamente lì la materia la materia oscura veniva presa come dire per testo per giustificare il fatto che atterravano in maniera rovinosa su un pianeta no? questa cosa ovviamente a noi fisici nerd ci fa ridere come pazzi perché la materia oscura non interagisce manco morta ammazzata non interagisce non la produce cioè passano in questa nebulosa di materia oscura e succede il finimonte che è qualcosa appunto allora è più senso Futurama che la fanno iper pesante iper cosa perché appunto è come dire ah c'è un vento di neutrini che mi sta spazzando via infatti tra l'altro la materia oscura è abbastanza ovunque quindi anche tra noi qui adesso quella è la forza quella che citavano prima però quella è l'energia oscura Tierra Erde giustamente ci dai gem a dar in prima cosa e quindi dicevi Omar scusa praticamente qui se in questo ma anche in quello precedente di Next Generation mi pare che c'era anche era anche in Enterprise mi pare che c'era una puntata che in cui la tiravano fuori come scusa per far succedere un qualche cosa però in effetti anche lì come dire passava come qualche evento del tipo passavo con l'astronave ho urtato il marciapiede che è succeduto a questo sostanzialmente d'altanto Rock and Soul è bellissimo come episodio tantissimo beh già stessa stagione quindi comincia già a esserci avviarsi veramente un grandissimo episodio veramente bello per tornare all'acceleratore per esempio lì il problema è non solo che no che non che non si crea questa parte perché l'idea è che se io ho abbastanza energia posso creare queste particelle che dovrebbero la supersimmetria tutte queste particelle del Mirror Universe dell'universo che noi non vediamo che dovrebbe esistere perché ci sono 50.000 motivi teorici del Big Bang dei conti eccetera dovrebbe esistere però non si crea e non solo non si vede quindi uno quello che vedrebbe è che queste particelle viene creata si disintegra subito ma produce tutta una serie di particelle secondarie un po' come i neutrini quando interagiscono nei rivelatori underground e però non solo non si vede questo evento che hanno cercato e che doveva stare all'energia dell'HC ma non si vedono neanche le correzioni ai famosi disegnini di Berusche dei grammi di Feynman dovuti al contributo di questa particella quindi più passa il tempo magari domani la scopro non è e poi sarà ovvio che era lì eccetera ma più passa il tempo la puntata eh? e beh dovremmo fare beh voglio dire se scopo la materia oscura sarà un evento anche perché poi non è solo no non è solo il più grosso problema fisico della fisica degli ultimi cento anni non è solo che quindi avreste un grandissimo suggerimento su cosa fa il Big Bang ma attreverrebbe tutta la fisica nuova perché l'altro problema è che i fisici sono abbastanza disperati perché stiamo veramente a grattare il fondo del barile no? in una chat con Giuliana eh ti ricordi perché questi questi rivelatori underground vediamo un po' ce l'hai rimetti un po' il rivelatore underground sono bellissimi sono sensibilissimi sono raffinatissimi eh perché appunto riescono a vedere il singolo neutrino sono iperpuri sono fatti metti il rivelatore underground però non non l'HC eh quindi il Gran Sasso è l'esempio proprio eh fulgito della di un rivelatore accessibile con l'autostrada poi vabbè c'è avuto problemi di interazione con la popolazione locale indigena però ehm è una delle cose che ci invidiano tutti perché di solito i rivelatori underground sono in miniere difficili da raggiungere e così via eh però il punto è che i rivelatori cioè adesso sono talmente sensibili e talmente raffinati questi che cercano materia oscura che chi è che gli va a rompere le scatole a questi rivelatori Giuliana confessa esatto anche questa è una cosa che secondo me fa ammazzare dalle risate cioè che tu c'è un rivelatore sì sofisticale eccetera eccetera ma chi è che ti rompe le scatole sono i neutrini che in quest'unghia in questo secondo passano un miliardo di neutrini solari e appunto stiamo raschiando il fondo del barile ma anche noi c'è praticamente quello che succede è che per trovare queste collisioni della materia oscura con la nostra materia ordinaria bisogna fare degli esperimenti ultrapuri in cui ci schermiamo da qualsiasi cosa creiamo tutto con dei materiali che non emettono radiazioni eccetera eccetera cerchiamo di essere sensibilissimi al minimo segnale dello spostamento di un atomo però c'è una cosa da cui non potremo mai schermarci e sono i neutrini perché come abbiamo detto i neutrini possono attraversare anche tutto l'universo quindi possiamo costruire in qualunque bunker sotterraneo ancora più sotterraneo di questo il nostro rivelatore ma i neutrini ci arriveranno sempre perché molti arrivano dal centro della terra tra l'altro si sono stati trovati i neutrini pure noi li produciamo è voglia 300 milioni al giorno comunque c'è un modo in realtà per andare oltre questo fondo che non diciamo non si può eliminare ed è quello di cercare dei segnali che provengano da una certa direzione perché perché noi ci spostiamo con la nostra terra durante il normale moto all'interno del sistema solare e così via e quindi è come se ci muovessimo anche nei confronti della materia oscura che invece immaginiamo essere bene o male stazionaria ferma è come se noi ci muovessimo in macchina e mettessimo la mano fuori dal finestrino e sentiamo tutte le particelle di aria che ci vengono incontro anche se in realtà quel giorno non c'è vento quindi se noi facciamo un esperimento che è in grado di puntare sempre nella stessa direzione rispetto alla materia oscura quindi per esempio il nostro vento di materia oscura alla direzione della costellazione del cigno abbiamo un segnale che è direzionale contrariamente a quello dei neutrini che invece proviene principalmente dal sole poi da tutte le direzioni ma sicuramente non ha come direzione preferenziale quella della costellazione del cigno e quindi diciamo alcuni esperimenti ora stanno già guardando in questa direzione come uno degli esperimenti in cui lavoro anch'io e quindi si vuole costruire rivelatore su un telescopio equatoriale che sarebbe una sorta di telescopio che si muove e punta sempre nella stessa direzione non pensate al telescopio come quello per guardare le stelle fuori perché noi ricordatevi che siamo sotto la montagna quindi è telescopio nel senso che puntiamo per guardare ma non con l'oculare come farebbe un telescopio normale ecco ecco c'è da dire che c'è un gruppo che sono anni che ha rivelato cioè che pubblica un segnale modulato annualmente cioè secondo questo tipo di misura cioè non è direzionale la collaborazione d'Ama che c'è questa modulazione annuale proprio quando una delle spiegazioni è quando la terra nel suo moto intorno alla galassia cioè si sommano il vento si somma la velocità della terra intorno al sole la velocità del sole intorno alla galassia e quindi in qualche maniera andiamo più contro vento della materia oscura e hanno questa modulazione annuale il problema è che poi non sono state fatte altre misure che non confermano questa misura però è anche vero che sono misure leggermente differenti insomma lì è rimasto e si tenderebbe a escludere questa misura ma rimane il fatto che qualcosa non si sa cosa esatto cosa si anche perché non è mai stato ripetuto l'esperimento identico in un altro luogo questa è di nuovo la falsificabilità della scienza di Popper è proprio questa cioè io rifaccio lo stesso esperimento trovo la stessa cosa va bene trovo una cosa differente o non la trovo quindi dico no vabbè ho sbagliato io ho sbagliato lui però c'è tra l'altro non si dice mai che è sbagliato tu hai sbagliato come ci dice c'è tensione tra i dati per non menarsi per non menarsi fisicamente almeno non davanti perché dietro puoi pugnare i dati sono in tensione poi dopo di che se ti trovo per le scale ti spingo di sotto però è solo che i dati sono in tensione tra le due cose insomma le interazioni tra fisici e fisici soprattutto perché poi tutta una questione di soldi sono molto diverse da come ve le aspettate forse o come sono narrate c'era anche questa serie Dark Matter no? che non era neanche male però l'hanno tagliata non mi ricordo aspetta mettiamola qua mi pare anche l'abbiano tagliata comunque aspetta che verifichiamo immediatamente sì dopo tre stagioni tre stagioni infatti però con la materia oscura non c'entrava niente ma almeno non è che c'era l'astronave che andava a materia oscura e poi cercando per la puntata ho trovato questo anime o manga non so se qualcuno di voi lo conosce che è tipo un certo tipo di materia oscura però anche lì secondo me non c'entra niente la storia sembra molto in intimo praticamente allora per la media per la ragazzina media che sta sulla copertina di animazione di manga giapponese è anche troppo vestita è anche troppo anziana aggiungerei per l'età media delle pulselle che popolano io le interazioni tra fisici le immagino esattamente come la descritte Casolino eh sì infatti un giorno dovremmo fare un puntatone solo sulle litigate e sulle sulle battaglie tra fisici e no tu se fai tra l'altro il giurale si è stato tante volte in Giappone hai trovato anche citavi io volevo ti raccordi se metti le mie slide faccio un grande annuncio in diretta perché in realtà la materia oscura io l'ho trovata e l'ho trovata proprio in Giappone e ora vi farò vedere la materia oscura è questa questo è un dolce giapponese che si chiama Dark Matter probabilmente perché il cioccolato è una certa come dire è molto denso ecco devo dire ottimo veramente eccezionale anche perché i dolci giapponesi non sono molto dolci come i nostri quindi poi quando uno trova una bomba calorica al cioccolato di questo tipo ti sembra proprio di essere tornato un po' in patria eh sì perché questo appunto c'è scritto Brack Sanda Black Thunder perché tra l'altro i giapponesi questa scrittura qua è il katakana che usano loro per traslitterare tutti i nomi stranieri quindi in realtà questo è in inglese solo che non lo saprebbero leggere questo sarebbe appunto tuono nero Dark Matter Dakumata e poi sotto pure qua Cacao Royal Cacao Royal eh super questo non so che cos'è eh ah questa sì sì Demolex questa è una grandissima citazione chi si ricorda nel racconto di Asimov dove due scienziati fanno una partita a biliardo e uno muore ucciso bucato aggiungo io erroneamente da parte a parte dalla palla colpita dall'avversario ma era involontario non è stato mai arrestato il perpetratore di questo però questo è divertente perché si rilaccia al concetto di Dark Matter della di Futurama cioè che in realtà è una cosa eh molto pesante molto molto densa mentre in realtà è esattamente il contrario cioè è una roba che in confronto appunto i neutrini sono questi questi esseri eh fastidiosi che non stanno sempre a interagire rumorosi che ti danno che ti danno fastidio vabbè abbiamo passato l'ora eh non so se avete abbiamo dato un esempio di Dark Matter quindi cosa volete di più da noi guardate la situazione noi ridiamo ma è disperata noi adesso spegniamo e ci metteremo a piangere no 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 Omar che ovviamente eh non non per sua fortuna ha un altro lavoro eh ecco io pure sono a tempo determinato quindi poi che si trova no chi se ne frega però Giuliana forse sarebbe bene se eh o capisse che meglio però visto che si diverte anche lei ed è anche molto brava appunto ricordiamolo la no no non dico la frase che secondo me è tristissima e vergognosa ma la cito solo per non dirla bella e brava perché secondo me è una delle cose più più fastidiose ma no perché non sia vera ma perché eh l'ho sempre trovata quella molto molto sessista secondo me perché non è che dici di Omar è bello e bravo dici non è bello e non è bravo cioè che devo dire di me poi neanche ne stiamo a parlare e però questa è una delle cose che secondo me ti ricordi avevo fatto la puntata dopo che c'era uscito l'affaire del 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 CERN e tante se ne potrebbero ancora fare sì però forse in contesto fisico il fessismo c'è ma è meno che in altri contesti tu pure mi dicevi allora guarda io in generale non ne ho mai sofferto nel senso che il mio gruppo di ricerca è un gruppo di ricerca abbastanza femminile e siamo principalmente donne numericamente parlando però il nostro capo è un uomo quindi diciamo quello che io noto e non solo nel mio gruppo di ricerca è che quasi sempre i capi sono uomini e che non è di per sé un problema è semplicemente che ti rendi conto che quando sali sempre di più al vertice il numero di donne non si sa che fine abbia fatto cioè prima c'erano poi scomparse quindi questo si nuota anche perché voi forse la Federico II di ordinari donne ne avete molti di meno che a Tor Vergata appunto si potrebbe fare la battuta se discutiamo se sia un bene o un male però appunto in realtà cioè quando si discusse di questa cosa noi a Tor Vergata per esempio abbiamo parecchi ordinari donne che appunto è il livello più alto del professore mentre in altre università essendo poi una cosa statistica in realtà ci sono parecchie fluttuazioni però è chiaro che c'è il problema c'è e c'è in tutte le scienze però diciamo in fisica un minimo è perché poi pure lì il gossip questo non lo potremo mai fare qua però in generale si bada più al risultato cioè se tu lavori o non lavori poi non ci prega niente se sei gender fluid o gender binary c'è tutto questo bellissimo video che ha fatto Marco Taddia con Berusca in cui si fa tutto lo spiegone ma insomma essenzialmente è molto irrilevante devi lavorare quello sì però quello che mi chiedo è quanto la mancanza di donne anche che arrivi in un certo stadio finale della carriera possa influire sulla percezione delle ragazze che si iscrivono a fisica cioè io per esempio al primo anno di università ho visto una professoressa professoressa ordinaria donna che mi ha ispirato tantissimo e è stato tipo amore a prima vista nel senso che mi ha mi è stata di ispirazione io volevo diventare come lei eccetera eccetera magari sarei diventata come un altro cioè non è detto che se non ci fosse stata lei non avrei raggiunto gli stessi obiettivi non avrei proseguito nella stessa strada però è ovvio che c'è una maggiore identificazione quando uno vede una donna se tu ti vedi circondato esclusivamente da uomini ti domandi perché e quindi no questo è assolutamente chiaro che non manca infatti ci sono stati fatti parecchi sforzi in tal senso magari non abbastanza sicuramente però è un problema aperto non solo nella scienza ma anche poi anche nelle arti o nelle archeologie eccetera eccetera per lì magari conta un po' meno quanto lavori anche lì frase razzista sulla superiorità dei fisici però effettivamente da noi se una lavora e tra l'altro in Italia c'è da dire che è abbastanza tutelata cioè ci sono tutta una serie se tu hai bambini eccetera eccetera è chiaro che sono tutta una serie di problemi però poi viene computato nel non so puoi fare non so domanda anche all'Unione Europea rifondi all'Unione Europea se sei a otto anni dal dottorato però se tu hai avuto un numero di bambini non bosonico cioè non contemporaneamente gemelli ma fermioni cioè uno per volta è un po' che è nerd eh sì lo so quindi ci sono una serie di strumenti che in qualche maniera tutelano un minimo però poi è chiaro che è un problema molto aperto non so se qui stanno degenerando su MidiClorian quindi voglio dire stiamo continuando invece a degenerare su questo argomento su cui veramente potremmo parlare per secoli ma dovremmo fare una puntata in cui tutta una serie di donne io che vi spiego come stanno le cose come un buon mansplaining di quelli di quelli di quelli seri allora Giuliana Narita Averuska c'è la resta ascoltate che vi spiego esattamente il problema delle donne nella fisica e nella nella società moderna guarda se poi rubi l'immagine a qualche ragazzina straniera come Rocandina è il top successone sicuro assicurato accendi tutti gli special comunque dovremmo farla non così perché poi appunto mi venate voi tra l'altro c'è da dire che soprattutto in scientifica ma insomma in questi contesti oltre eccetera eccetera belle e bravi quello che volete ma melano come fabbri quindi anche lì c'è da dire che anche anche colleghi dell'università colleghe dell'università cioè su fai la battura sì però poi ti becchi cioè i lividi io non è che scherziamo io ve lo faccio vedere comunque la battura ci stanno però poi devi anche prendere prendere il giusto la giusta la retribuzione va bene abbiamo sforato ringraziamo come al solito tutti i nostri amici ascoltatori e anche se hanno deviato un po' sui temi di gloria e altre zozzerie che non si dovrebbero nominare ringraziamo soprattutto Giuliana e Omar soprattutto però soprattutto Giuliana grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo sproloquio lunghissimo di venerdì sera ma è anche più corto il primo è durato più di due ore con Antonio Moscatello che dovrà tornare Antonio se ci ascolti torna a casa e infatti di Hera che è espertissima Toaro Magiuzzo No Index è certa in Magican Index di cui lo spin off è Toaro cioè Toaro è un certo Dark Matter è certa in Dark Matter che appunto non è certa in manco per niente di nuovo buona serata buon fine settimana e come al solito frasi triste fate subscribe fate passaparola accendete la lampadina dove cavolo sta sta lampadina fate pubblicità ciao